Gli avverbi di modo servono a farci capire appunto il modo in cui l'azione è compiuta e quindi in che modo la qualificano. E in questo sono simili agli aggettivi qualificativi. Infatti potremmo anche chiamarli avverbi qualificativi. Alcuni avverbi di modo derivano dagli aggettivi qualificativi e si formano aggiungendo il suffisso mente. Vi faccio un esempio. Veloce è un aggettivo qualificativo. Velocemente è un avverbio di modo. Morbido, aggettivo qualificativo. Morbidamente, avverbio di modo. Vi ricordo che ci sono anche degli avverbi di modo che si formano aggiungendo il suffisso oni. Ad esempio dal verbo carpare si ottiene l'avverbio carponi. Il bimbo cammina a carponi. Altri avverbi hanno la stessa forma degli aggettivi qualificativi al maschile singolare. Vi faccio un esempio. Forte è un aggettivo qualificativo. Ma la stessa parola si usa anche per l'avverbio di modo. Infatti forte è anche un avverbio di modo. Io sono forte. In questo caso è l'aggettivo qualificativo. Urlare forte. In questo caso è un avverbio di modo. Poi ci sono le locuzioni avverbiali. Ad esempio. Alla svelta. In fretta. Di corsa. A piedi. Ecc. E ora veniamo alla grammatica tedesca. Anche in tedesco molti avverbi di modo vengono formati dagli aggettivi qualificativi. Ma in più vengono anche formati dai nomi. Per fare ciò vengono aggiunti due suffissi. Il suffisso weise è il suffisso lich. Ad esempio. Eccezione è un sostantivo. Un nome. In tedesco si traduce con ausnam. Eccezionalmente è un avverbio di modo. In tedesco si traduce con ausnames weise. Ogni regola ha la sua eccezione. Nessuna regola senza eccezione. E in questo caso ausname, come abbiamo detto, è il sostantivo, il nome. Eccezionalmente le do un minuto per formulare la sua domanda. In tedesco si dice Io do a lei, ich gebe ihnen, eccezionalmente un minuto. Ausnames weise, eine minute. A sua domanda a fornire. Um ihre frage zu stellen. In questo caso si usa l'avverbio ausnames weise, che significa eccezionalmente. Dolce è un aggettivo qualificativo e in tedesco si dice süß. Dolciastro è un avverbio di modo, come dire anche dolcemente, e si usa süßlich. La felicità è dolce, das Glück ist süß, il pane è dolciastro, das Brot ist süßlich. In tedesco, tra gli avverbi di modo più usati ci sono Per dire, non appena arrivò a casa, mi telefonò, mi chiamò. Vielleicht, forse, vielleicht ist es zu spett, forse è esso a tardi, per dire, forse è troppo tardi. Wohl, probabilmente, er ist wohl nicht zu Hause, esso è probabilmente non a casa, per dire, probabilmente non è a casa. Sicherlich, sicuramente, certamente, sicherlich, er kommt sicherlich nicht, lui viene, sicuramente non, per dire, sicuramente non verrà. Ziemlich, abbastanza, er kam ziemlich spett, lui venne abbastanza tardi, per dire, è venuto piuttosto tardi. Kürzlich, recentemente, kürzlich, 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 habe ich Mario getroffen. Recentemente ho io Mario incontrato, per dire, recentemente ho incontrato Mario. Verrückte, volle, aggettivo qualificativo. Verrückteweise, follemente, avverbio di modo. Hans, ist verrückt. Hans, è volle. Verrückteweise, follemente, verrückteweise. Verrückteweise, ist Marcos in dich verliebt. Follemente, è Marco, in te, innamorato, per dire, Marco è follemente innamorato di te. Verdienst, merito. Das verdienst, il merito. È un nome, un sostantivo, da cui deriva l'avverbio di modo, meritatamente. Verrückteweise, Hans, ha il merito, molto a studiare. Hans hat das verdienst, viel zu studieren. Per dire, Hans ha il merito di studiare molto. Brigitte, ha meritatamente, di nuovo, la doro medaglia vinto. Brigitte hat, verdienstweise, erneut, die gold medaglie gewonnen. Per dire, Brigitte ha vinto di nuovo, meritatamente, la medaglia d'oro. Dum, stupido. Dummavaisa, stupidamente. Loro sono, molto stupidi. Sie sind, sehr dum. Lui ha esso, stupidamente, buttato via. Er hat es, dummavaisa, begeworfen. Per dire, stupidamente l'ha buttato via. Schaff's nicht. Sagacemente, astutamente, schaff's nicht. Brigitte ha il problema astutamente risolto. Brigitte hat das Problem, schaff's nicht, gelöst. Fortunatamente, glüchelichavaisa. Fortunatamente, a lui, glüchelichavaisa, hat er, all'incidente, sopravvissuto. Den unfall, juba lebt. Glüchelichavaisa, schaff's nicht, glüchelichavaisa, hat er, all'incidente, sopravvissuto. Den unfall, juba lebt. Wilchelichavaisa, volontariamente, arbitrariamente. Wilchelichavaisa, hat er, all'incidente, sopravvissuto. Hans hat die flasche, Hans alla bottiglia, willchelichavaisa, getroffen, volontariamente, urtato. Unwilchelichavaisa, involontariamente, unwilchelichavaisa, hat die statue, Brigitte, alla statua, unwilchelichavaisa, getroffen, involontariamente, urtato. Bis zum nächsten Mal.